vuoi vendere la tua abitazione ma nel caos che stiamo vivendo di questa situazione senza precedenti ti stanno sorgendo mille dubbi mille paure mille incertezze e ti domandi quanto sarà il valore reale della mia casa come potrò fare la pubblicità più adeguata e soprattutto come potrò fare entrare degli sconosciuti all'interno della mia abitazione io sono sana dell'agenzia immobiliare marella affidati a me e metterò a tua disposizione la solidità della mia professionalità per fare la scelta giusta già da oggi immobiliare marella prima di tutti e meglio di tutti